Una giornata importante, un esempio pregnante dei giovani che attraverso un loro service, attraverso un loro messaggio di solidarietà hanno deciso di loro spontaneità di acquistare un'attrezzatura valida e importante per un reparto importante di eccellenza per la nostra sanità che è il reparto di oncoematologia pediatrica, che è un punto di riferimento regionale. Prendiamo esempio da questi giovani e noi delle istituzioni spesso e volentieri abbiamo bisogno di questi service, di questi gesti perché attraverso una rete complementare che va dall'ospedalizzazione al territorio, alle associazioni, riusciamo a costruire quel modello importante di una sanità attenta al cittadino. Le associazioni sono tante che collaborano non solo in questa azienda ma in tutte le aziende dell'Abruzzo ma soprattutto portano anche quel lavoro complementare anche come servizio dentro le stesse strutture per cui dobbiamo creare, salvaguardare anche procedurando meglio quella che è la loro competenza e la loro capacità.